Venite, venite, venite! Direttori, venite, direttori, la giuria speciale di Football Leader. Direttore Jacopelli ce l'abbiamo. E allora? Certo, l'abbiamo. E allora, grazie, grazie a tutti. Domani, mi raccomando, ore 10 sulla terrazza, la premiazione del direttore della Juventus, Beppe Marotta. Grazie a tutti, grazie a Nicola Fansa. C'è anche Ottagliano, il procuratore di Lorenzo Insigne, che è qui. Prego, prego, Antonio, venga. C'è anche della Monica, ci raggiunga. Gianni, ci sei? Unica certezza, oserei dire. Allora, Massimo, un saluto a tutti. Il tuo pensiero poetico per le venienze? Il mio pensiero lo passo ai due direttori che ho sulla mia destra, che sono qualificati a parlare. Io mi metto sugli attenti.